Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, mi trovate esattamente vestita come nel video scorso, ma questi sono i vestiti che dato che il video scorso l'ho registrato ieri, questi sono i vestiti puliti, tirati fuori ieri per stare in casa. Ovviamente la roba che utilizzo da stare in casa non è che la cambio proprio tutti i giorni e quindi mi trovate vestita così semplicemente per quel motivo. Allora, mi sto mettendo un po' di crema, mi sono già lavata i denti, allora mi sto mettendo un po' di cremine. La mattina è già iniziata da un po' perché noi siamo svegli dalle sette e mezza, ieri sera siamo andati a mangiare la pizza, siamo arrivati a casa non tardissimo, erano le undici più o meno. E stamattina ci siamo svegliati molto molto presto. Pierandrea è andato a fare due lavoretti nel capannone e io e Pietra Nera ci siamo goduti un po' il divano. Allora, aggiornamento albero Demetra, questa mattina ho trovato una pallina, delle mie belle palline azzurre di Maison du Monde per terra rotta, quindi cambio di nuovo posizione, quelle lì finiscono ancora più su e poi basta una pallina rotta per terra e nient'altro. Però, vabbè, adesso ho tolto il sacco di juta, quello che copriva la parte sotto dell'albero, l'ho tolta perché gioca, tende a giocare con quel telo, quindi l'ho tolto, gliel'ho messo vicino al divano e infatti adesso è corecata lì sopra, sperando che si accanesca solo con quel sacco e non più con l'albero. Adesso vado a preparare il pranzo perché Pietro Nera oggi giocherà a Torino la sua prima partita con l'Under 11, quindi i bambini, i ragazzini più grandi di lui. L'hanno, ci hanno mandato il messaggio questa settimana, l'hanno convocato in quella squadra di lui, era felicissimo, felicissimo. E quindi oggi nulla, si va a Torino e sperando di arrivare a casa di un'ora decente perché poi questa sera avremo la cena con i nostri amici. Allora, adesso vado in cucina, per pranzo a Pietro Nera farò un po' di pasta in bianco perché è quello che chiedono gli allenatori, quindi un po' di pasta in bianco e poi faccio con i bimbi le carote insaporite sperando di riuscire a fargliele mangiare un po' anche a lui. Allora vado così poi dopo ci tocchiamo insieme. Allora vado così poi Allora vado così poi Allora pensavo di registrare invece il telefono era spento. Ho messo all'interno del bimbi le carote tagliate a rondelle e le sto insaporendo. Ho messo poi un pochino di aglio, io utilizzo questo granulare che è molto buono e poi un pochino di sale e adesso stanno cuocendo e io vado a lavare tutte queste cose qua che sono dentro il lavandino. Ma perché lì c'è una gattina che si mette sempre dove non deve? Eh? Brava! Grazie a tutti! 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 Ho trovato qualche pigna per terra, ma se è limitata alle pigne, fortunatamente forse si sta abituando e via. Allora adesso io vado, perché mi stanno aspettando, anzi adesso quasi quasi chiamo Fede, mi faccio venire a prendere da lei e Mauro, così io non sto ad andare fin dai miei suoceri con la mia macchina, vado direttamente con loro. Per questa sera ho messo allora camicia, questa di Zara con questo pantaloncino a palloncino sempre di Zara, tutto bello, sbremucicoso e il mio stivale basso. Questa sera non avevo voglia assolutamente di mettere i tacchi e quindi ho messo gli stivali bassi. Allora sto leggendo i messaggi che mi state mandando nel video pubblicato oggi e mi sono soffermata su una ragazza che gentilmente mi ha scritto guarda la macchina elettrica, allora quando ho parlato della mia macchina dicendo che l'avrei presa diesel, qualcuno no diesel no diesel no perché adesso non potranno più circolare. Io mi sono informata, posso circolare con la mia macchina nuova. Tra qualche anno dovesse esserci poi qualche limitazione ben più chiara, si posso comunque avere ugualmente il modo per circolare pagando una piccola tassa e quindi polemica sul diesel, polemica su chi ha comprato la macchina a benzina dicendo che poi tra qualche anno arriveranno le macchine elettriche quindi anche benzina non va bene, noi prenderemo una macchina elettrica e anche questa non va bene. Allora noi ci siamo affidati alla concessionaria, abbiamo chiesto a loro questo modello che prenderà Pierandrea, questa macchina da gennaio non la faranno più né a benzina né diesel, solo elettrica, quindi chi vuole quella macchina lì la deve prendere elettrica se no cambia totalmente il modello. Lui voleva quella lì, voleva togliersi lo sfizio e ha detto me la faccio andare bene elettrica anche perché da gennaio, come vi ho appena detto, non venderanno più gli altri modelli. E cioè se uno vuole quella macchina la deve prendere usata, lui la voleva nuova e quindi prenderemo una macchina elettrica. Poi tra qualche anno ce ne saranno tantissime di macchine elettriche, poi diciamo che è una macchina particolare non voglio entrare nello specifico perché se no poi inizierebbero a arrivare tutte le critiche anche sulla scelta della macchina è un modello di macchina molto 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 particolare e quindi mi sono fidata della concessionaria vi dico la verità, il ragazzo della concessionaria è un mio amico, mi ha detto vai serena, non ascoltare nessuno fidati di me che le vendo e tranquilli, tranquilli, tranquilli. Allora adesso io scappo, vado a mettermi il giubbotto, vado a mettermi la mia giacca e ci vediamo poi nel prossimo video, ciao! Allora vi ho salutate ma prima di andar via vi faccio vedere il mio cappellino, questo è un cappellino della Gallo preso qualche anno fa con il fiocchettino fucsia, ci tenevo a farvelo vedere e quindi vi risaluto, ciao ciao!